Ciao cari amici di Sizzornara, io sono Alanis, si già me conoscono, edizione del Festival Estramurales e questo è un messaggio per voi, non lasciare morire questi festivali importanti, estramurales, importanti a livello internazionale, nazionale e non solo per noi artisti, anche per voi, dai, portare avanti questo che la cultura è importantissima per il popolo, ti mando un abbraccio, ciao! Grazie!